Mettiamo la fralla lievitata, abbiamo bisogno di 250 grammi di farina 00, 125 grammi di succo morbido, 100 grammi di zucchero, un uovo, metto un cucchiaino di lieve per i dolci, una pazzina di vanillina e un pizzico di sale. Mettiamo la farina a fontana sulla canadoglia, aggiungiamo lo zucchero, il pizzico di sale, il lievito, la vanillina, facciamo la fontana, aggiungiamo l'uovo, il burro a pezzi e impassiamo il tutto. Una volta che tutti gli ingredienti ci sono amalgamati e l'abbiamo lavorata velocemente, freghiamo una palla, la mettiamo nella pellicola e la mettiamo a riposare in frigo per almeno mezz'ora.